tiriamo fuori il fisico come si dice no buongiorno e bentrovato a swing biz con il frigo manuel frigo parlavo prima con mora gli dicevo che lui ha 26 26 anni tu ne hai io 27 e quindi c'è lui 27 e quindi ormai no lo dicevo perché a 27 ormai si è quasi la fine carriera non mi permetterei mai di dirlo però no io la metterei sotto un altro profilo manuel della grande esperienza che hai perché poi io questa mattina sono arrivato via ostia ho detto mettiamo all'evidenza la velocità i velocisti e tutto quello che sarà da qui a qualche mese l'olimpiade e tu mi dici che l'olimpiade ha bisogno nella fattispecie poi di una staffetta così importante che richiama pensieri sogni e quant'altro e poi mi dirai esperienza sì no sicuramente già qui a parigi saremo diversi rispetto a tokyo cioè più o meno le stesse persone che già tokyo voglio dire argento e ricordiamolo ricordiamolo per chi non avesse perso che eravamo in quattro i quattro finalisti alla prima esperienza olimpica quindi lì tra prima olimpiade la voglia di gareggiare sicuramente è un qualcosa in più però qui a parigi anche il fatto che la seconda olimpiade per tutti poi ci sarà il valle de plano conte buonese riuscirà a qualificarsi che è il tuo compagno di squadra che poi peraltro macina macina qui chilometri come tutti quanti gli altri penso che con rossetto la cura sia una cura bella tosta anche perché è ritornato a a fantasticare tante cose il tuo allenatore poi ascolterai l'intervista che ha fatto e quindi insomma voglio dire comunque l'obiettivo è quello di andare a fare cose importanti cioè non è che ci possiamo nascondere sui desideri poi certo come diceva tra pattoni non dire gatto se non ce l'hai nel sacco ovviamente però diciamo che infatti qui a parigi ci sarà il mix giusto tra esperienza e gioventù visto i prossimi che stanno arrivando come che già ci sono e proprio c'è una bella con gestione di gente cioè voglio dire tua esperienza però c'è tutti questi questi giovincelli o pseudo giovincelli o dico c'è come che il cento stile è un è un valorone aggiunto anche poi bisogna capire se li vuol fare a certo livello il cento stile lui ma questo bisognerà domandarlo a lui ma certamente è un c'è quasi un overbooking no fa anche piacere visto dall'altra parte ma sì no fa sempre piacere comunque vedere il movimento che cresce vedere giovani che alla fine stimolano stimolano anche perché se fossimo sempre gli stessi dopo un po ti stanchi anche invece vedere giovani che crescono che vanno sempre più forte ti fa venire anche la voglia di di continuare di allenare di allenarti e provare a batterli provare a batterli insomma ci riusciamo tra qualche anno siamo 30 ma c'è gente che ha vinto ha vinto olimpiadi pensiamo quest'anno e poi l'anno prossimo livello livello di stress perché poi il pubblico si accorge l'olimpiade a settimana prima voi incominciate a metabolizzare a pensare a perché poi tutti i giorni è uno è lì con la testa e tu come la come la gestisci ma allora per ora sono abbastanza tranquillo già il fatto che sono riuscito a qualificarmi a febbraio mondiali tutta un'altra cosa rispetto a tre anni fa quando sono arrivato alle sette colli proprio che ero sul filo di un rasoio in quel momento con la tensione stress eccetera quindi no la sto vivendo molto molto bene serenamente penso ad allenarmi bene adesso ci saranno delle gare un po di passaggio si barcellona a merano poi sicuramente anche il sette colli sarà di passaggio anche se cercherò di farlo comunque bene bisogna annorarlo perché sessantismo poi diventa una gara per gli altri per quelli che devono cercare il biglietto per salire sull'aereo per andare a parigi importante quindi penso che sia come un po come un trials all'italiana si si esatto alla fine è sempre stato un po l'ultima spiaggia per qualificarsi ma senti ma tu a proposito ma tu cosa cosa ne penseresti è una domanda che vorrei fare anche i tuoi colleghi di un trial secco cioè come come fanno all'estero cioè arrivano all'ultimo momento si mettono lì e passano i primi beh allora se vogliamo dirla tutta alla fine così è la maniera più giusta per trovare come il modo di qualificazione secondo me perché così magari rimani sempre un po sul chi va là perché non sai se hai fatto il tempo ma se va bene in quel momento se devi rifarlo se devi aspettare qualcun altro poi qualcuno rimane deluso perché dice io no io ero il più bravo di tutti sì e non ce l'ho fatto il progetto è lì devi essere bravi a essere pronti nel momento giusto e aumenterebbe lo spettacolo anche per chi guarda dall'altra parte sicuramente però alla fine abbiamo visto che in questi ultimi anni le cose anche in questo modo come facciamo sono sempre andate bene le gare mondiali europei dal 2021 insomma anche da prima ma comunque quindi sindacati sindacati il sindacato nuotatori è d'accordo a andando a guardare a questo sistema no poi magari se si cambiasse non lo so ho detto sindacato nuotatori perché in formula una decidono ognuno ha proprio parere però secondo me sarebbe giusto fare anche un trial unico magari non un mese prima farlo un po prima questo vale per il prossimo per la prossima per il prossimo giro dei prossimi mondiali non so che ci sarà il prossimo anno che c'è il prossimo anno te lo ricordi ci sono i mondiali sì che poi peraltro è cambiato proprio il nuoto in generale perché si gareggia in continuazione no e per fortuna ne facciamo gli europei no lo dico perché non è cambiato per colpa diciamo del covid che ha inglobato compresso non è che ci hanno preso gusto questi delle federazioni internazionali a farvi gareggiare ogni due per due sicuramente loro saranno più contenti però penso che adesso le cose si stiano un po sistemando man mano sono passati quattro anni da dal covid abbiamo passato questi ultimi tre anni con europei mondiali ogni anno quindi è stato un po così però dall'anno prossimo in teoria le cose dovrebbero sistemarsi bene bene senti dopo parigi che farai vacanza te ne vai anche tu in australia con mora dicono dicono che voglia affittare un mezzo il van glielo lascio a lollo tu sei tu sei più da crociera io sono più da hotel tu sei uno uno che uno modello rossetto insomma aria condizionata un po di paddle verso sera ma tu riesci a battere lo rossetto a ping pong a paddle perché non mi alleno però secondo me se mi allenassi un pochino quindi abbiamo lanciato la sfida diciamo perché rossetto dice claudio rossetto il tuo allenatore che finché nuoto no perché magari rischio di farmi male però appena smetto comincerò a allenarmi a paddle e poi assieme a ping pong però al ping pong si lo si può fare anche il ping pong si può fare lei già battuto lei già battuto no abbiamo mai avuto modo di no perché lui si fida a tutti so che è un mondo per tenere alta alta l'agonismo quindi vabbè si scherza si fare battute ci vediamo a sette colli alla prossima consumi biz ciao grazie